Luca? Siamo qua davanti che mi fanno le foto e lo tuttore che escono. Come si fa lo zucca? Ok, ciao ciao. Come si fa lo zucca? Devo fare la foto qui qua. Uno di questi. Mi lo dice. Spendi la livetta e fa la testa. Posso fare la macchina? Signori, stiamo un po' indietro per favore. Intanto, mettoci un metro o meno. Attenzione alle macchine.